Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la stazione del traffico della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 per veicolo fermo in avaria, 2 km di coda in direzione nord tra Badia e Via 1 variante. Traffico inoltre, rallentamenti e coda a tratti verso nord tra Calenzano e Via 1 variante, tra Via 1 variante e Sasso Marconi, verso sud tra Firenze e Sud e Incisa Reggello. In A11 per incidente 3 km di coda con tendenza all'aumento tra Prato Ovest e Firenze Ovest in direzione Firenze. Coda a tratti verso Firenze e anche in Fipirì per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Borga Bugiano. I treni percorrenti nella linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social e sulla app di Muoversi in Toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!